Sono due i progetti che interessano il Comune di Santo Stefano di Camastra dichiarati ammissibili nell'ambito del POFESRA Sicilia 2014-2020 con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 675 mila euro. Sono stati presentati attraverso l'area interna Nebrodi a valere sulle azioni 671 e 672 del POFESRA inseriti tra gli interventi dell'accordo di programma Quadro Nebrodi. Lo scorso 8 marzo il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha notificato al Comune di Sant'Agata Militello, ente capofila, gli esiti della Commissione di Valutazione sui progetti. In particolare è stata dichiarata ammissibile l'idea della fruizione innovativa del patrimonio culturale nei Comuni di Tusa e Santo Stefano di Camastra con Valle della Lesa proposta che prevede un impegno finanziario di 300 mila euro. Saranno realizzati audio e videoguide, cartellonistica e materiale promozionale che riguarderanno sia il cimitero vecchio che altri siti attrattivi della città delle ceramiche. Passa anche l'intervento di rifunzionalizzazione e manutenzione del Palazzo Trabia adibito a Museo della Ceramica per un importo di 375 mila euro. Con gli importi a disposizione potrà essere realizzato il rifacimento del tetto, della facciata e degli infissi dell'immobile, interventi che consentiranno di salvaguardare uno dei palazzi storici di maggior pregio di Santo Stefano di Camastra. Per entrambi questi progetti che sono esecutivi, entro dieci giorni dalla notifica del verbale, dovranno essere prodotti i rispettivi cronoprogrammi di spesa prevista. Mancano dunque pochi passaggi propedeutici all'emanazione dei rispettivi decreti di finanziamento che consentiranno di avviare importanti lavori di riqualificazione e adeguamento della residenza ottocentesca, monumento strategico nel complesso del patrimonio storico stefanese e per realizzare nuovi strumenti per consentire una miglior fruizione del patrimonio artistico e culturale della città delle ceramiche.